Buongiorno mi chiamo Paolo Calatti e attualmente sono gerente della Migros di Buffalora. Mi ha sempre affascinato la vendita e avendo già mia sorella che lavorava in Migros diciamo ho avuto la fortuna ad empiere questo apprendistato. Come gerente in una filiale piccola bisogna toccare tutti i settori e anche ufficio diciamo a 360 gradi. Il mio ricordo più bello dell'apprendistato è stato quando siamo andati a fare un corso alla Neo Garden dove poi nel pomeriggio purtroppo non è stato più fatto perché abbiamo fatto un bel aperitivo sul mezzogiorno. Come apprendistato ho avuto successo nel servire un cliente che era molto titubante ma alla fine mi ha ringraziato e mi ha detto che veramente sono stato un buon venditore professionale. Mi affascina di questa professione le diverse tipologie di clienti e soprattutto l'evoluzione del mercato dove non sta mai fermi nel senso bisogna sempre continuare a aggiornarsi. Agli apprendisti il primo consiglio che do è quello di prendere a cuore questa professione perché è veramente una professione dal mio punto di vista molto interessante che può dare tanto. Io ho fatto l'apprendistato due anni a Ser Fontana come venditore, poi sono andato come vicegerente per tre anni sempre a Ser Fontana e da un anno e mezzo che invece sono gerente della filiale di Bufalora. Sinceramente quando ho iniziato in Migros non avrei mai pensato ad arrivare dove sono arrivato però dalla mia parte sono molto contento e soddisfatto delle scelte che ho fatto.